bentornati abbiamo un ospite oggi che cazzo ah niente magma 80 plus 550 watt un alimentatore che adesso viene consigliato siccome toccherà vedere come va visto che non ci sono test in giro relativi a questo allora l'ho preso vediamo come funziona intanto andiamo a vedere come ha fatto dentro cioè con la confezione allora vediamo che ci offre la famosa noa ecco si aprirà di qua classica rotazione quindi psv cavo d'alimentazione e la famosissima bustina con le fascette che ormai troviamo in qualunque scatola oddio di alimentatore andiamo a dargli in occhiata a come a dargli in occhio per avvicinare una fase di pulizia decente ma questo poi lo vedremo in fase di apertura tanto adesso andiamo a dargli una collegata e vediamo come risponde ai test allora ci siamo giusto due cosine da dire una che mi è piaciuta una che non mi è piaciuta allora mi è piaciuto il fatto che l'alimentatore abbia due connettori pc express separati il ciò vuol dire che ha proprio due cavi separati e questo ovviamente abbassa notevolmente la caduta del potenziale col singolo cavo pc express che alimenta due connettori questa è una cosa buona a mio parere la cosa non buona e ora non lo sentite perché c'è il le ventole ma vi avvicino il microfono io non so che si sente questo simbilo ad alta frequenza che viene dalla psu appena accendiamo il pulsante posteriore di accensione che non mi piace proprio per niente però allora a parte questo andiamo alla configurazione intanto il nova ci fornisce il connettore 6 pin per il processore che non è una cosa malvagia e collegheremo anche questo fra l'altro è un'idea che ancora molti non hanno fatto e la la apprezzo quello ciò che è di cesare di cesare ma vabbè non lo collegherò non ci crea niente allora andiamo ad accendere ecco nel momento in cui abbiamo acceso l'alimentatore questo fruscio è andato via analizziamo le tensioni che sono 12.2 volte per la 12 volte 5.05 per la 5 volte e 3.36 per la 3,3 volte allora per quanto riguarda il ripple allora per quanto riguarda il ripple abbiamo uno spettro di alta frequenza che si espande oltre i 10 millivolt ma è uno spettro filtrato da in dal nostro strumento quindi oltre 20 megahertz quindi secondo la normativa ATX lo vediamo si vede molto male dietro infatti è filtrato non è contabile quindi non c'è allora per quanto riguarda il minimo traballante eccolo qua siamo a 10 millivolt per visione 5 millivolt per divisione siamo più o meno a 10 12 millivolt di ripple sulla 12 volte parlando della se riusciamo a collegarci bene alla 5.5 volte allora vediamo 5.5 volte siamo intorno ai sempre 10 12 millivolt per quanto riguarda vari disturbi però che non capisco perché dov'è veramente la linea e anche per quanto riguarda la 3,3 comunque siamo a 10 millivolt va bene allora direi che possiamo cominciare a fare il test del carico intanto proviamo con il primo test dove si è incastrato che è il cross load cross load quindi 3.3 5 volte li carichiamo 37 watt più o meno comunque l'alimentatore li regge la 5 volte rimane stabile per quanto riguarda il ripple sulla 3,3 ci teniamo comunque a 10 millivolt sì circa e sulla 5 volte sempre 12 millivolt circa la stessa cosa sulla 12 volt più o meno al minimo sembra tenere molto bene il ripple sinceramente allora gli diamo subito 200 watt vediamo se così riusciamo a vederlo meglio eccolo qua eccolo qua allora dando 200 watt la situazione un pochino cambia perché andiamo subito a 60 millivolt fulla 12 volt sulla 5 volt arriviamo intorno compreso quindi di disturbi compreso di disturbi con un ripple che si assesta intorno ai 20 millivolt e dei disturbi di switching che possiamo anche isolare come frequenza se mettiamo a 100 kilo ohm vediamo i disturbi di frequenza sono a 10 quindi sono 100 kilohertz il disturbo di frequenza che è l'equivalente dello switching in effetti che si protrae per 60 millivolt vediamo per sulla 3,3 sulla 3,3 siamo leggermente più in basso rispetto che fu la 5 volt con un disturbo di switching che ha sempre 100 kilohertz e si aggira intorno ai 50 millivolt dato che siamo a divisore per 20 millivolt continuiamo a richiedere corrente alla nostra PSU 300 watt 300 watt le tensioni comunque sono stabilissime la 12 volt è 12,10 la 3,3 è 3,30 e la 5 è 4,95 se noi dassimo ora il cross load non cambierebbe assolutamente una minchia allora andiamo a vedere qui qui come siamo messi qui abbiamo in questo frangente un attenzione un ripple che adesso andremo a linearizzare con la griglia esattamente di 100 kilohertz perché 10 microsecondi sarebbero allora un millisecondo sono mille hertz 0 e un millisecondo sono 10 kilohertz 10 microsecondi sono 100 kilohertz un disturbo un ripple di 100 kilohertz quindi il regolatore switching è 100 kilohertz che come ampiezza di solo ripple è di circa 22 millivolt ma contando i disturbi di switching arriviamo a 20, 40, 60, 80 millivolt di ripple e siamo praticamente a poco più di metà del carico fra l'altro se andiamo a vedere le linee minori quindi la 5 volte anche qui ci becchiamo un tranquillissimo 62, 63 millivolt fra ripple che comunque è 22 millivolt e il disturbo quindi ragazzi siamo già fuori dai parametri ATX per quanto riguarda il ripple nelle linee minori già attoppato vediamo la 3,3 che non differisce molto dalla 12 volt dalla 5 volt che poi fra l'altro penso che abbiano anche lo stesso spettro poi andremo a vedere se fra l'altro si infatti l'ampiezza è un po' maggiore sulla 5 volt ma il metodo di regolazione è lo stesso perché la 12 volt è diversa? la 12 volt è diversa perché la regolazione della tensione avviene direttamente sul coil principale e non tramite i controller di sito DC ma proseguiamo dobbiamo reggere 550 watt facciamo la nostra escalation e arriviamo a 558 watt allora qui vediamo che fu la 12 volt il solo ripple attenzione quindi parliamo di solo ripple io parlo solo ripple senza disturbo è di 65 millivolt dobbiamo abbassare la linea di regolazione a 50 se andiamo a 50 millivolt se andiamo a vedere siamo a 50 millivolt per divisione e io mi sbaglio perché il solo ripple si protrae da metà di un quadratino alla fine dell'altro quindi siamo a 70 millivolt di ripple con i disturbi di linea arriviamo a circa 100-110 volt di ripple fulla a 12 volt quindi 70 di ripple puro circa 30-40 in più con il disturbo di switching e arriviamo a 100-110 millivolt di ripple sulla 12 volt per quanto riguarda la 5 volt andremo a pulire meglio il segnale ed eccolo qua abbiamo un tranquillissimo ripple che sta a pelo nelle specifiche quindi su un quadratino di 50 millivolt ma se sommiamo il disturbo di switching che va sommato per normativa ATX abbiamo quasi 80 millivolt di ripple andiamo a richiedere un divisore minore così da poterla contare meglio siamo a 20 millivolt per divisione 20-40-60-80 millivolt siamo a circa 50 millivolt di solo ripple più altri 30-35 millivolt di disturbo andiamo a vedere la 3.3 volt che è un po' distorta ma andremo a pulire questo segnale ed eccolo qua la 3.3 volt è messa più o meno in maniera uguale con un ripple che si aggira intorno ai 50 millivolt più il disturbo che supera anche gli 80 millivolt perché siamo a 1, 2, 3, 4 10 millivolt 20 millivolt per divisione che ve li faccio vedere perché altrimenti pare che non sto dicendo il vero eccoli qua 20 come vedete e qui io addirittura potrei anche se voglio fare il buff tardo potrei usare lo switch per abbassarlo e farvi vedere che questo in verità non è lui mai meno ma non si fa è giusto così è tarato poi andremo anche a collegare se volete il 250 millivolt per conferma quasi 90 millivolt di ripple sulla 3,3 vediamo se almeno la protezione contro l'overload funziona speriamo che questa vada no allora ragazzi la protezione contro l'overload non va pericolosissimo guardate bene allora guardate qui la tensione chiedo 552 siamo a 1196 continua a chiedere ecco adesso ha funzionato ora si è spenta ok ora si è spenta e va bene riaccendiamolo riproviamo 552 ah no adesso raggio anche 550 watt bene se vede che è andato in protezione contro controllo termico ah no siamo a 642 watt di potenza assorbita non so perché ah c'erano questi due accesi ok allora ritorniamo a richiedere la potenza massima di 553 watt le tensioni sono a posto vanno bene siamo in normativa nei parametri ATX se andiamo a richiedere di più 625 644 la tensione non scende addirittura siamo arrivati a richiedere 815 watt ragazzi io mi sono fermato perché sennò questo lo famo esplode subito secondo me fa il botto mi sto chiedendo 800 watt no ecco praticamente la 550 si è spento 850 watt la protezione OCP è un pochino lentina ma vabbè questo qui comunque sui sulle PSU di di basso prezzo è normale però certo da 500 a 800 watt comunque devo dire che la tensione non si era molto abbassata è una cosa molto strana dato che mi sono accorto che la potenza dichiarata era di 450 watt e non 500 dal produttore andremo siccome siamo persone come si deve non vogliamo fare imbroglia andando a testare una PSU con una potenza maggiore di quella dichiarata andiamo a vedere i valori a 469 watt allora siamo a 50 millivolt per divisione andiamo a zoomare e qui siamo sulla 12 volt andiamo ad abbassare la luminosità sulla 12 volt abbiamo circa mettiamo eccoci qua abbiamo messo 20 millivolt per divisione 20 40 80 100 dei tranquillissimi 120 millivolt che sono comprensivi no 100 che 120 20 40 60 80 100 100 millivolt che sono comprensivi di 60 millivolt di solo ripple come vedete più altri 20 millivolt di disturbo vediamo la 5 volt poi andremo a vedere anzi guardiamo anche il ripple a bassa frequenza che comunque ci conferma solo quello che abbiamo letto ad alta frequenza vediamo la 5 volt per quanto riguarda la 5 volt abbiamo un corpo ripple di circa teniamo un po' di posizionarlo circa 40 millivolt quindi ovviamente meno che andando a portarlo a 500 sì in effetti un po' meno 40 millivolt contando anche disturbi di switching che sono sempre a 5 microsecondi quindi 100 kHz 20 40 60 quasi 80 millivolt sulla 5 volt siamo comunque fuori specifica fra ripple che è di circa 45 millivolt e 35 millivolt di disturbo di switching siamo sulla 3 virgola 3 sulla 3 virgola 3 il discorso è esattamente identico esattamente identico anche qui abbiamo uno switching di vediamo circa 38 millivolt di ripple e uno switching che si potrà per altri 40 millivolt arriviamo anche qui quasi ad 80 siamo al limite sì per entrambi siamo fuori dai parametri ATX anche alla potenza richiesta vediamo quanta potenza ci vorrebbe per rimanere all'interno dei parametri ATX allora oltre a questa non possiamo andare allora questo è il limite questi sono 50 millivolt 1 2 3 4 5 50 millivolt è il limite e stiamo chiedendo 200 watt se superiamo i 200 watt con questa PSU sulla 5 volte sulla 12 volte andiamo fuori dai parametri ATX sarà un problema come ho detto per poco però fatto sta che è così adesso andiamo a dargli un'occhiata dentro per capire con che cosa abbiamo a che fare e perché abbiamo 110 millivolt di ripple sulla 12 volt e 80 85 sulle linee minori sulla 12 volt saremo a specifica a pelo sulle linee minori le abbiamo sforate questa ragazzi è una situazione simile al CV 650 con la sola differenza che il CV 650 il ripple ce l'aveva molto più decente di questo ma aveva solamente dei rumori questo ci arriva per più della metà dell'ampiezza in millivolt solamente con il ripple quindi andiamo a vedere perché allora prima di tutto devo notare come lui dica 550 watt ma poi dichiari praticamente 450 watt sulla 12 volt ma quando eravamo già fuori dalle steglie a 450 quindi è cambiato poco ma più che altro questa pecetta che adesso andremo a togliere perché è stata attaccata questa pecetta riuscirò a toglierla aspettate questa pecetta che dichiarava 23 ampere mentre ci hanno messo hanno messo aspettate 37.5 che ora vabbè ora non si legge più che vabbè queste sono robe forti ragazzi perché 12 per 23 farebbe 276 watt cioè come fa 23 ampere a fare 450 watt 12 per 37.5 fa 450 watt ovviamente la mia speranza è che questo sia come dire sia stato un errore di stampa ovviamente questo è ovvio allora per quello che riguarda la PSU eccola qua abbiamo partendo dall'alimentazione un un connettore abbastanza scarno che comunque va a massa con un fusibile classico un'induttanza e un condensatore X e 1 Y un posto per il disaccoppiatore che è vuoto è ponticellato con due ponti fra l'altro c'è rimasto anche un pezzetto di saldatura il ponte di diodi che è dal lato opposto a quello della serigrafia quindi non so dirvi quale è un altro condensatore di livellamento e due condensatori Y un filtraggio che vabbè si è economico ma c'è qui abbiamo l'induttanza per il PFC e ovviamente l'NTC per i picchi di tensione il condensatore primario è un teapo da 250 microfarad 450 gradi che per 450 watt da loro dichiarati comunque diciamo è è al limite è sufficiente ma è al limite e lo vediamo infatti dal vero e proprio ripple che è abbastanza alto qui abbiamo integrato che gestisce la parte di produzione dello switching che in questa configurazione questo qui viene usato fu il PSU più economico che fra l'altro è un CM6805B che fra l'altro è un è un controller PFC e PWM quindi è un controller combo fa entrambi ma il fatto è che questo controller è fatto per alimentatori che hanno una vedi qui dice fu la datasheet for the power supply less than 200 watt quindi è fatto per alimentatori che supportano meno di 200 watt quindi anche come limitere il PFC siamo siamo andati proprio sul risparmio massimo insomma ecco per quanto riguarda il doppio diodo e i i transistor un attimo se riesco a leggere cosa abbiamo qui uno D08 65 si questo qui è comunque 80A quindi vabbè come ce ne ha due fra l'altro quindi come fase di di doppi diodi e di alimentazione e di MOSFET ci siamo più o meno qui abbiamo davanti con i MOSFET qui doppi diodi il trasformatore sembra quantomeno dimensionato nei minimi termini lì vediamo il filo che esce e va a fare la regolazione della tensione 12 volt per quanto riguarda le componentistiche al secondario allora andiamo a vedere il transistor se riusciamo a metterla a fuoco o il ponte di diodi ora leggiamo bene SI60 N11 di 60 volt 300 watt 300 watt ovviamente spero ne abbiamo due infatti sono entrambi quindi per un totale di 600 watt massimali per quanto riguarda andiamo a togliere lo zoom scusate ma qui io faccio un casino allora per quanto riguarda la la sezione di secondario si sappiamo completamente TAEPO comunque TEAPO TEAPO i controller DC to DC della 12 volt della 5 della 3,3 volt e la bobina principale quindi l'induttanza principale che va a regolare la tensione della 12 volt questa è abbastanza normale senza tanti fronzoli comunque la sezione di sito DC è classica si può stare ci sono alcuni polimerici sulla sezione di sito DC per avere comunque sicuramente un SR molto basso il filtraggio non è il top e quindi più o meno questo è la ventola è una Power Ear DC Brassless è classica una ventolina tutto sommato classica insomma la classica ventola e andiamo al finale che dire allora una PSU diciamo di sito DC proprio entry level entry level della serie che le bugie ABR500 che abbiamo provato è molto meglio di questo e una PSU come in CV 650 più o meno ha le performance di questo ma dando più corrente se andiamo ad analizzare i dati trovati andiamo a vedere che analizzando il totale del disturbo qui abbiamo 110 volt di ripple completo di noise full a 12 volt e tra i 70 e gli 80 volt millivolt sulla 5 volt mentre oltre 80 millivolt sulla 3,3 quindi siamo molto fuori dalla specifica inoltre siamo tornati a vendere PSU che dichiarano 550 watt e poi te ne danno 100 watt in meno sulla 12 volt e questa signori miei è una caratteristica che avevano solo i vecchi group regulated che non mi sarei mai aspettato di trovarmi su un prodotto poi così consigliato che dovrebbe funzionare funziona DC2DC ed è molto sponsorizzato mi chiedo sinceramente il perché ma veniamo a noi il ripple di questa PSU è molto alto merito del suo condensatore da 250 con uno switching classico da 100 kHz che abbiamo visto anche sul nostro oscilloscopio quando tutte le altre PSU da notte estate compreso il CV650 avevano disturbi di switching di 200 kHz segno che lo switching lavorava con una frequenza molto più alta e che è buono tende ad avere molto meno ripple di fatto il singolo corpo ripple quindi il livellamento vero e proprio della corrente qui è più alto del CV650 ci assistiamo sui 60 millivolte per la 12 volte e 60-65 millivolte per la 3,3 e la 5 volte il resto per arrivare a 110 per la 12 e 3,3 e 5 volte 80-90 è tutto disturbi di switching che comunque per normative ATX con dei disturbi sotto i 20 MHz vanno conteggiati sul totale ricordiamo che il CV650 che abbiamo recensito qualche giorno fa aveva un rapporto ripple rumore abbastanza alto più o meno simile a questo ma la maggior parte del ripple cioè del disturbo era disturbo probabilmente per un per un cattivo uso di chip switching o per una mala posizione nel PCB ma comunque se vi dovessi dire è meglio questo è meglio quello preferisco di gran lunga un disturbo a 200 Hz che è una regolazione a 100 Hz dello switching con 60 mV di ampiezza sulla 12V più il disturbo sinceramente detto questo ragazzi io personalmente questa PSU non la consiglio allo stesso prezzo consiglio assolutamente un colink che direte avrà sì i condensatori cinesi sulla parte di secondario ma perlomeno se dovete tenere un paio d'anni sicuramente avrà performance in quanto a pulizia del segnale migliori di queste o comunque dato il prezzo di 55€ con poco si arriva a prendere i famosi Cooler Master VME che sono indubbiamente molto meglio di questa gelio ragazzi vi saluto come sempre ciao a tutti da Dante Sardor ciao ciao